Tutto pronto per cominciare Juve con la divisa bianconera, Cesena con il completo blu chiaro, quasi azzurro con inserti blu scuro, una Cesena che partirà con il kick off dell'incontro, comincia il match, inizia, Juventus next gen, Cesena. Bello il lavoro di Sekulov che arriva in zona tiro, spara, manda a largo la Juvece, inizia bene con il tiro di Nikola Sekulov che impensierisce Siano, Salifu prova ad andare nello spazio per Sekulov, palla di ritorno, Salifu esterno della rete, altra opportunità per la Juventus, combinazione tra Salifu e Sekulov. Intanto errore di Pedro Felipe, prova ad andare il Cesena, l'ottima parata di Daffara, Pierozzi prova a passare, palla al limite, conclusione a parte del numero 24, palla a lato, che occasione per Edoardo Pierozzi che ha voluto andare sul palo lontano ma ha allargato troppo. Donnarumma, finta di crossa, vuole andare sul piede forte, la mette col sinistro a cercare la deviazione aerea di Pierozzi, ancora vicino al gol il numero 24. Baglia qua il Cesena, può andare Nonge, Nonge che la porta avanti con la suola, si libera Sekulov, il pallone dall'altra parte con Turicchia! A lato, gran conclusione di Riccardo Turicchia, vicinissima alla rete del vantaggio la Juventus! La rincorsa, Luis Sasa, forte dentro, palla sul secondo palo, non gira a sufficienza questo pallone del trequartista, vive che non riesce a uscire da quella zona. Ci prova ora Berti che arriva al limite dell'area, calcia col sinistro, Daffara c'è, è presente e blocca! Salifu va via molto bene nel traffico, adesso accelera, Salifu attaccano in tanti, dentro il pallone per Anghele che calcia! Palla che si impenna, non riesce a tenere basso il mirino, Lorenzo Anghele non c'è, Damiani si avvicina al limite dell'area. Turicchia, dentro il pallone per Anghele, messo fuori, sinistro di Turicchia! Che la incastra al sette, fa 1-0 Juventus al settantanovesimo! Turicchia, meraviglioso! Il gol del numero 32, avanti la Next Gen! Donnarumma ad uscire, colpo di testa, deviazione, poi 1-1 segna Cioffi. All'ottantottesimo, il Cesena l'ha ripresa, con Andrea Cioffi. Salavaccioni per Iocolano, preso in controtempo, occhio a Cioffi, riparte il Cesena, Berti, palla dentro, posizione regolare, Corazza! 2-1, ribaltone nel recupero. Il Cesena passa a condurre il gol segnato da Simone Corazza. Da Fara! Lancio lungo, cala il Sipario, il Cesena passa al Moccagatta in rimonta, vince 2-1 contro la Next Gen. Amaro in bocca per i ragazzi di Brambilla che hanno giocato una grande partita.